Buongiorno a tutti, salve, io mi chiamo Petacchia Adriano, sono il titolare dell'azienda Frantoio Moro, situata in Luligiana, provincia di Massacarrara, quindi al confine tra Toscana e Liguria. Produciamo olio stravergine d'oliva, farine macinate a pietra e poi produciamo pasta, biscotti, fette biscottate, tutto fatto con le nostre farine. Qui siamo all'interno del nostro frantoioleario, in cui tra una ventina di giorni avrà iniziato la nuova campagna. Abbiamo una macchina estratrice, quella che per forza centrifuga estrae l'olio, abbiamo le masche gramolatrici per poi terminare con i separatori verticali dove si ottiene il prodotto finito. La nostra storia è una storia lunga, lontana, perché l'azienda è del 1954, ma in realtà è il fondatore mio bisnonno. Quindi Frantoio Moro nasce nel 1954, ma in realtà è la quarta generazione che si sta occupando. Per parlare un pochino nel dettaglio dei prodotti possiamo avvicinarci. Allora, i nostri prodotti storici sono oro giallo e oro verde, rispecchiano perfettamente i profumi e i sentori del nostro territorio. Oro giallo è un prodotto tipicamente Ligure, quindi fatto da un brand di olive tipicamente Ligure, in cui avrà un profumo più delicato, è una mandorla e un leggero piccantino finale. Mentre l'auro verde è il classico olio toscano, in cui il fruttato, l'erba è più intensa, il retrogusto piccante e leggermente amarogliano è più persistente, per cui due oli ben distinti che rispecchiano le nostre regioni, diciamo, di origine. In più, negli ultimi anni abbiamo inserito un olio certificato lunigiana e due monocultivari. L'unigiana è il prodotto fatto direttamente con l'oliva della nostra azienda agricola, non solo certificato toscano, ma con l'inze della lunigiana, per cui ogni oliva deve essere coltivata, raccolta, prodotta e imbottigliata all'interno della lunigiana. La lunigiana, come abbiamo già detto, è il territorio nella provincia di Massacarrara. Poi abbiamo due prodotti, invece, monocultivar, quindi mentre gli altri hanno blender più il tipo di olive messi insieme, abbiamo un monocultivar leccino, che rispecchia anche questo sentore un pochino più ligure, e un monocultivar frantoio, che invece rispecchia il sentore un pochino più toscano. Abbiamo ovviamente diversi formati, non solo bottiglie da mezzo litro, ma anche lattine da 5 litri, bottiglie da litro e quant'altro. Oltre a questo prodotto, solo e esclusivamente nel mese di ottobre, abbiamo l'olio novello. Abbiamo delle bottiglie del 75, in cui noi imbottiglieremo l'olio appena franto, mosto, non filtrato, più o meno per circa un mese, un mese e mezzo dalla produzione. Questo è un piccolo assunto per quanto riguarda la nostra attività, il nostro mercato di riferimento è il consumatore finale. Vendiamo direttamente nella nostra piccola bottega, oppure attraverso i canali online, attraverso il nostro sito e-commerce. Sono a disposizione per qualsiasi curiosità, qualsiasi dettaglio e anche per le schede tecniche, dei prodotti e quant'altro. Un saluto a tutti, grazie.